Lo sport ha il potere di unire le nazioni in pace. In questo momento tragico, in cui ci sono venti di guerra, in teoria dovrebbe esserci una tregua olimpica, paralimpica, ma non c'è. Quello che però qua all'interno del villaggio paralimpico si respira è sicuramente lo spirito paralimpico e questo senso di unione che veramente lo sport riesce a dare con i suoi valori. Faccio anche un saluto speciale al blog I Segreti di Matilde. Credo che sia importantissimo avere un punto di vista delle donne sparse in giro per il mondo. Un abbraccio.